L'Umsa, Libera Università Maria Santissima Assunta, nuovo step per il suo ritorno a Gubbio. Firmato stamani il contratto di concessione in favore della diocesi eugubina dei locali di proprietà del comune all'interno dell'ex seminario. Accanto al sindaco Filippo Stiratica concessi i locali il vescovo Mario Ceccobelli che li prende in gestione e che si impegna a realizzare i lavori di ristrutturazione, mentre il rettore Francesco Bonini dal 2017 porterà in città corsi di alta specializzazione post laurea. Punteremo molto sulla residenzialità e questo si intreccia molto anche con i nostri programmi internazionali. Noi stiamo puntando molto sull'internazionalizzazione e in particolare sul circuito delle università cattoliche a partire da un dottorato di ricerca che comincerà proprio nell'anno accademico 2017-2018 sul malesimo cristiano contemporaneo che certamente avrà in Gubbio uno dei suoi pilastri. La Lunza è nata dalla professoressa Tincani che è la professoressa che ha iniziato il liceo classico a Gubbio. Se a Gubbio ci sono avvocati, medici, notai, professionisti qualificati è anche perché da oltre 50 anni questa donna che poi ha fondato anche una famiglia religiosa ha portato gli studi classici a Gubbio e quindi che hanno aperto poi all'università e alle professioni e quindi è importantissimo. Io sono convinto che la cultura produca anche economia e non è un caso che le realtà avanzate culturalmente lo sono anche economicamente viceversa, cioè le due cose si tengono assolutamente insieme e poi c'è tutta questa politica dei palazzi pubblici che naturalmente riusciamo a ristrutturare e recuperare anche grazie al contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per cui interveniamo sull'ex seminario, interverremo su San Benedetto e quindi lo metteremo a disposizione dell'Università di Perugia, stiamo recuperando il centro servizi Santo Spirito, a San Pietro ci sono grandi ulteriori interventi per cui lì il Palazzo della Cultura assumerà un ruolo enorme anche dal punto di vista archivistico, documentario eccetera quindi tutto questo credo che dia alla città una grande potenzialità e soprattutto un'organizzazione coerente cioè una visione strategica molto coerente su che cosa vogliamo che sia e su come organizzare tutte queste attività di eccellenza